E' disponibile online Prodenone 900, la guida digitale alle opere architettoniche più significative della città. Liberamente consultabili sul sito del Comune 120 schede di case, palazzi, strutture pubbliche. Un viaggio negli stili del XX secolo tra ville e liberti edifici razionalisti. Un lavoro dell'Ordine degli Architetti in collaborazione con il Municipio. Gli obiettivi di questo progetto sono innanzitutto quello di far conoscere le architetture significative di questa città. L'architettura del Novecento, che non sono solo architetture di grandi architetti. In questa città ci sono progetti molto importanti, fatti da architetti che vengono dall'esterno, da varie parti, italiani ed esteri. Ma è molto importante anche che il cittadino, non è una guida fatta per i tecnici, che il cittadino conosca l'operato degli architetti proprio che hanno, degli architetti del luogo, del territorio che hanno costruito questa città. Ben 30 gli architetti dell'Ordine che hanno contribuito volontariamente al progetto. Nel 2016 le schede sono diventate un libro, che ora il Comune ha trasformato nel catalogo online. Pordenone è caratterizzata da una molteplicità di architetture, frutto del genere, della creatività di professionisti, di architetti, di ingegneri. Anche edifici del passato hanno in realtà degli elementi innovativi, fortemente innovativi. Fino ad oggi era un libro, oppure era possibile visitare e passarci davanti magari in totale indifferenza. Oggi è possibile invece poter guardare queste schede direttamente online e sarà un patrimonio prezioso a disposizione sia di studenti di architettura, dei professionisti, ma anche dei cittadini che vogliono conoscere le origini e la storia degli edifici che danno appunto questa conformazione alla nostra città. Il catalogo digitale è stato inserito nel piano regolatore del Comune. Ecco, l'inserimento nel piano regolatore ha, diciamo, delle conseguenze positive. Assolutamente sì, proprio perché la volontà è quella di creare un vincolo che, seppur non è un vincolo, diciamo, ordinario imposto dalla sopraintendenza, è un vincolo che consente di non modificare in maniera sostanziale, anzi di conservare le caratteristiche architettoniche proprio di queste opere, in modo tale che si conservino nel tempo.